Cominciamo col secondo e ultimo valore di oggi, stimola il feedback negativo diretto in una società in cui siamo abituati a sorridere, a fare buon viso al cattivo gioco, probabilmente maggior sincerità anche nel dire mister antipatico magari ci vuole perché può stimolare una reazione da parte dell'altra parte e quindi un chiarimento immediato. Noi spesso ingolliamo tanti, come si dice, sassolini, sassolini, macigni, sorridiamo agli altri, sorridiamo agli altri e poi esplodiamo. Vogliamo stimolare il feedback negativo diretto perché fa male all'inizio, solo che quando ci dicono che una cosa l'abbiamo fatta male, è magari pure vero, questo ci aiuta a crescere. A noi per esempio ci è capitato con un consulente, il primo consulente di Brain Positioning, Marco Deveglia, che quando ha visto la nostra impostazione di tre anni fa, che paravamo il viaggio e il lavoro, ci ha detto proprio in maniera testuale che ci presentavamo come degli sfigati. Ragazzi, ci ha fatto male, solo che ci aveva ragione e quindi abbiamo cominciato tutti insieme una riflessione e grazie a un feedback negativo diretto siamo cresciuti e siamo arrivati a questo livello. Oggi facciamo la storia di Alessandro, l'altro studente in corso. Ciao Alessandro. Ciao prof. Eccoci qua Ale, tu sei un gatto ascendente cane. Ebbene sì, prof, è una lunga storia, significa che il mio test mi ha dato la consapevolezza che essere cane aiuta nelle relazioni, però il gatto che è in me prendeva sempre il sopravvento. Io sono sempre stato una persona che, da buon gatto quale sono, tendeva a osservare, a non approfondire le relazioni o comunque le conoscenze nel momento, in un primo momento. Guardava, osservava, per un certo senso, in un certo senso, selezionava anche. Poi, nel momento in cui si sentiva sicuro, diceva, ok, quello sì, quello no, quello forse, e così via. Quindi, di primo almeno, sembri quasi un pupazzo di neve, gelido gelido. Sì, non mi espongo troppo, sono, diciamo così, riservato, sono sulle mie, e poi mi apro, e c'è il cane che è in me, diciamo, con la voglia di conoscere, di intraprendere delle relazioni durature. Ed è per questo che noi ti chiamiamo il diesel di Master Europei, perché all'inizio parti piano piano, e poi, quando prendi confidenza, anche in campo delle relazioni, diventi un compagnone, vero? Esattamente, divento una persona su cui si può contare. E quindi, è quello che è successo con il mio percorso a Master Europei. Sì, voglio dire che, immagino che queste due sfumature di Alessandro, si è messe in questa sequenza, cioè, gatto un po' freddino all'inizio, e cane particolarmente relazionale, e dopo ti può aver creato dei problemi, un vuoto anche. Perché magari tu vuoi fare amicizia con qualcuno, e poi ha capito male le tue intenzioni. Certo, io venivo visto non come quello che si apre subito con tutti, ma con uno che sta sulle sue. Ed è per questo che è successo, molto spesso, che io ricevessi un feedback negativo, che però non mi veniva comunicato. Quindi io ero inconsapevole del fatto di sembrare apparire più gatto, ecco, che cane, agli occhi degli altri. E' successo, è successo proprio a Master Europei. Esatto, è successo a Master Europei quando... Aspetta, scusa, che lo voglio dire da parte dei docenti, a parere dei docenti, di tutti e cinquante ragazzi, questo è quello che lo parla meglio, l'inglese, Se sei uno degli unici due a aver superato a pieni voti l'esame di soft skills, eppure, pur essendo il più più più, abbiamo avuto il coraggio noi, e il coraggio anche tu, di chiederci il feedback negativo. Cioè, tu ci hai chiesto, ma è andato male qualche cosa? E noi ti abbiamo detto di sì, in un contesto buono. E che ti ha fatto riflettere? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una parola che ormai ho imparato bene a conoscere, specialmente anche in polacco. La parola è sterne, e me l'ha insegnata proprio lei, ed è una parola che vuol dire in italiano rigido, ed è quello che io sembro in un primo momento, cioè uno che, come ho già detto, non si espone molto. Il feedback negativo però mi ha aiutato a crescere, perché ho riflettuto sul fatto che è possibile migliorarsi, è possibile anche cambiare, e il feedback negativo molto spesso aiuta a crescere di più rispetto al feedback positivo, perché ti fa rendere conto delle cose che puoi migliorare, al contrario del feedback positivo, che invece per un certo senso ti lascia adagiare, ti fa cullare, nella tua mente continui a dire, vabbè, va tutto bene, il feedback positivo l'ho avuto. Al contrario, il feedback negativo è quello che in realtà ti dà la spinta, ti motiva per migliorare e plasmarti, come è successo a me, per esempio rifinirti, ecco, sarebbe la parola giusta. Aiutare a modellare, a aggiungere dei dettagli che poi vanno a fare la differenza. E ora, che cosa ti senti di promettere, ragazzi, come English Ambassador? Mi sento di promettere che da me avranno sicuramente, ovviamente, non solo feedback negativi, perché è giusto premiare quando c'è da fare, da farlo, però il feedback negativo è quello che ti aiuta a crescere, quindi dove ci sarà da correggere, sarò il primo a essere disponibile ed essere aperto a poter comunicare, ad ascoltare i problemi di tutti i corsisti, specialmente nell'ambito dell'inglese, ma non solo, perché io essendo stato uno studente di banking posso anche rendermi disponibile per le loro domande chiaramente sul programma o sul master in generale. Sì, bellissima storia, stavo dicendo a Giulio la tua, Ale, e quindi...